E' iniziato l'iter che permetterà alle regioni di ottenere consistenti finanziamenti per il turismo da parte dell'Unione Europea. La notizia riportata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore rappresenta un'occasione importante visto che il tasso di utilizzo delle risorse comunitarie non è stato altissimo negli ultimi anni. Per il Molise ci sono 23,4 milioni di euro, una mole importante di risorse. Da una prima ricognizione effettuata da Federturismo Confindustria si possono ben ipotizzare circa 1,8 miliardi a cui attingere nell'ambito della programmazione 2014-2020 in riferimento al solo ambito POR-FESR. Lo sfruttamento delle risorse UE è fondamentale per la competitività dell'offerta italiana nel momento in cui i flussi internazionali sono in crescita e c'è anche un mercato recupero della domanda interna. Per questo motivo è stata realizzata la prima edizione del rapporto sulla programmazione turistica regionale che inizia ad accendere un faro costante sulla programmazione partendo solo da una quota di fondi UE. Non si tiene conto in questo primo lavoro dei fondi FSE eppure di quelli PSR destinati solo allo sviluppo agricolo e incostituiscono una massa enorme di risorse che transitano dai canali agricoli e interessano direttamente le attività turistiche. Il rapporto inoltre mette in evidenza tutte le criticità connesse ai fondi comunitari e alle iniziative regionali. In generale dall'indagine emerge il quadro di un paese adagiato, quantomeno in materia di programmazione turistica, sulla disomogeneità. Disomogeneità di approccio al tema, ma anche disomogeneità di contenuti e visioni e dunque di output strumentali.